Servono altri 700 morti per bloccare le partenze, l'ipocrisia di Renzi, Alfano e Boldrini crea soltanto morte. Il primo commento del segretario leghista Matteo Salvini innesca la nuova violenta polemica. Se le autorità internazionali hanno un senso, ci vuole tanto ad organizzare dei blocchi navali per fermare in Libia le partenze e di identificare lì in loco chi è l'immigrato clandestino e chi è il rifugiato, accusa il leader della Lega Nord, a staccando Premier, Ministro dell'Interno e Presidente della Camera. Non fanno niente per evitare le partenze. Razzisti sono loro che li fanno partire e non noi che chiediamo di fermare lo schiavismo che c'è dietro. Durissima la replica del vice segretario PD Lorenzo Guerini. Mentre i nostri uomini raccolgono i cadaveri e salvano vite nel Mediterraneo, gli sciacalli speculano in diretta a TV, nauseante, il PD non fa campagna elettorale sui morti, sottolinea una nota del partito. Anche da area popolare, partito di Alfano, respingono le accuse di Salvini. Dal leader della Lega, inaccettabile demagogia, dice il capogruppo in Senato, Schifani. Forza Italia invece attacca il governo. Questo esecutivo la smetta di fare false promesse. Non serve buonismo, serve buonsenso, dice Giovanni Totti, mentre Daniela Santanchè chiede l'utilizzo delle forze armate della Marina Militare per affondare i barconi e per non farli partire. Dal Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista indica come i principali responsabili delle tragedie il ministro Alfano e l'ex presidente napolitano, perché è lui che ha spinto soprattutto per l'appoggio agli USA e ai francesi per la distruzione violenta di Gheddafi. Mentre per Niki Vendola, leader di SEL, dobbiamo smettere di elogiare Papa Francesco e poi non battere i pugni in Europa. L'Italia abbia il coraggio di aprire corridoi umanitari per salvare persone, abbia il coraggio di ripristinare l'operazione Mare Nostrum, conclude a sua volta Vendola. Grazie.